Musica Ah hi people of YouTube, welcome to a new episode of Gli Incredibili, una normale famiglia di supereroi, l'ascesa del minatore, a parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Allora, vorrei, prima di iniziare ancora, a parte il minatore che continua a rompere le balle, Non vorrei dire, ma c'è scritto Disney presenta un film Pixar, non vorrei che intendessero solo il titolo, quindi Gli Incredibili o Gli Incredibili, l'ascesa del minatore una volta sarebbe dovuto essere effettivamente un film. Cosa che, negli anni, fino all'arrivo degli Incredibili 2, è stata una possibilità. Poi il minatore, alla fine, nel secondo film, ha proprio una parte all'inizio del gioco e niente più. Però guarda che bello il menu. Ok, modifiche effettuate, iniziamo una nuova partita. Vuoi fare un salvataggio? Certo. L'ultima volta abbiamo visto Gli Incredibili? È una scena del film che non posso far vedere, ovviamente. Vi faccio il riassunto perché ovviamente questa scena non posso farvela vedere. A fine del primo film, il minatore sale dagli abisci e decide di dichiarare guerra. E nessuno raggiunge le mie bassezze! Eh certo, Gli Incredibili lo guardano con aria convinta di fermarlo. E' certo, minatore. Tutto quello che vuoi. Caricamento, la minaccia del minatore. Questo gioco, in teoria, è più particolare rispetto al primo. Uno, credo e spero, sia fatto meglio perché il primo veramente è stato terribile. Oh, guarda. Iniziamo già alla grande. Il primo è stato fatto che tu sarai immerso nella velma. E io dominerò la superficie dal profondo degli abissi. E questo chi è? Verrete tutti spriciolati dalla mia borsa! Di chiunque si tratti è nel posto sbagliato al momento sbagliato. Le animazioni sono molto più belle. Si va in scena. Eh, c'è... Madonna mia, quante trivelle! Noi seguiamo il minatore. Tu e i ragazzi, occupatevi di quelle trivelle. In sostanza, in questo gioco giochiamo solo con Mr. Incredibile e col suo amico. Eh, a che qualità? Sembra uscito da adesso questo gioco. Allora, prima di tutto, come funzionano i comandi? Non lo so. Con Select. Apri potenziamenti. Oh, ci sono i potenziamenti. Bello! Ok, con Start, invece apriamo il menu. Ah, aspetta, ci fa già vedere i livelli. Abbiamo uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici livelli. Ok, con su cambiamo personaggio. Con giù lo mettiamo fermo. Seguimi! Con destra lo facciamo seguire da vicino e con sinistra lo facciamo seguire da lontano. Va bene, proviamo allora. Con triangolo che facciamo? Non lo so, con cerchi facciamo le prese. Con X saltiamo. Posso prendere le macchine? No, non posso. Ma le animazioni comunque... Oh, tutto rispetto. Ma... Scusami. Ah, ok, sto dicendo perché c'è una gallina? Il furgoncino. Oh no, Breaking Bad. Oh, comunque a livello di animazioni lascia fare. I filmati, ovviamente, non salgo di qualità perché i filmati sono pre-renderizzati, ma a livello qualitativo abbiamo veramente una qualità fantastica. Abbiamo una qualità fantastica. Tra l'altro, sopra c'è un counter. Non vorrei che siano i nemici uccisi, ma non credo ne abbiamo ucciso. 15 nemici. Credo siano i colpi inferti o i danni inferti. Vediamo subito. Allora, proviamo a tirare... Ok, possiamo... Bello. Complimenti. Oh. Ecco, fatto. Eh, beh, certo. Oh, comunque... Il suo colpo in aria è bellissimo. Il colpo in aria di Siberio è fantastico. Anche il colpo con cerchio, cioè... Bellissimo, complimenti. Ma anche l'animazione del ghiaccio che si mette sugli oggetti è... È veramente qualcosa di sporco. Madonna mia. È veramente stupenda. Con Siberio puoi congelare le torrette. Va bene. Ecco, fatto. E allora congeliamo le torrette. Eliminare, eliminare. Exterminate. Allora, vienimi più vicino, per favore. Incredible. Vieni qua. Resta fermo. Eh, lo so, infatti, devi stare... Devi stare fermo. Devi stare fermo, Bob. Eh, ho fatto. Siamo robot super intelligenti, ma se il nemico ci viene troppo vicino non riusciamo più a colpirlo. Non riesco... Ecco. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Resta lì. Quelle macerie sono un ripare. Ok. Non è propriamente protetto, Bob, ma funziona. Comunque, credo... Credo che sia il counter... Dei call. Ah, no. È energia che otteniamo ogni volta che uccidiamo un nemico. Grazie al gelo. Ah, grazie al gelo. Ok, lì, ho visto un oggetto. Aspetta. Non posso prendere i nemici, eh. Peccato. Potrò prendere probabilmente quando sono a terra o simili. Ecco, fatto. È un segreto. Hai sbloccato un bonus. Una delle cose che, ovviamente, non si può fare granché, è che con questa versione tu aumenti i modelli, aumenti le texture. L'unica cosa che non si aumentano sono i font. Quelli sono sempre sgranati. Non si può avere tutto dalla vita, no? Wow. Il robot più cattivo di tutti. Siberius, fermalo. Oh, no. Sei stato bloccato. Dai. Bravo, Bob. Oh, finalmente. Ma... Ah... Le sfere le ottiene? Chi fa il colpo finale? Mi chiedo se Siberius può continuare... Si può continuare a sparare all'infinito il ghiaccio. Oh, ma Bob comunque si sta rubando tutte le mie kill. Non vorrei dirlo. Mi chiedo se arrivando a 500 aumentiamo di livello, prendiamo punti, aumentiamo la vita. Ovviamente non ce l'hanno detto, però lo scopriremo sicuramente tra poco. Sopraterresti, morite. Per rendere il tuo compagno più aggressivo. No. Con la sinistra lo rendi più aggressivo. Ah, no. Ok, scusa. Scusami. Colpa mia. Ho cambiato personaggio. Io credo che... Per più aggressivo intende... Che essendo... No, non lo so. Non so che cavolo intende con più aggressivo. Perché più aggressivo è una freccia. Con due ci resta più vicino. Non comprendo. Ma ci sono dei topi, guardali. Che fighi. Oh no, il fuoco. Fermo. La propria voce. Andiamo avanti. Ecco, fatto. Vai, Bob. Uccidilo. Sei proprio una macchina da guerra. Eh, certo. Ok. Fermati. Perfetto. Non è che posso congelare? No, ovviamente. Ehi, c'è della luce da quella parte. Ma va? E non scordi quel muro. Devolisci quel muro. Eh, certo. Lo puoi fare anche tu, Siberio. Vieni. È bloccato. Saliamo per la raffa. Non è vero che è bloccato. L'abbiamo appena sbloccato il passaggio. Sopraterrestri. Oh, calmo. Secco. Stavo congelando il culo a Bob. Ecco fatto. Ehi, 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 ehi. Calmati tu. Bob. Ti dispiace. Ah, aspetta. Allora, con un tasto di sinistra lo rendi meno aggressivo. Con una seconda pressione lui va subito contro i nemici. Non è ben visibile la cosa, ma, ehi. L'era funesta del binatore. L'era funesta. E ora lui se ne va. Ti dirò che, per come l'hanno fatto questo pezzo, sembra veramente una trama tendibile. Suggerimento di suggerire miti per guadagnare super mosse. Che immagino che userai col triangolo, giusto? Ecco, fatto. Ah, no. Oh, calmo. Ok, ho appena usato una super mossa. Non volevo usarla, ma ho sbagliato. Eh, certo. L'unica persona che mi può dominare è una bella signorina vestita con vestiti addillati. Forse è meglio non dire troppo a voce alta queste cose. Bello l'attacco grandine, comunque. Ecco fatto. Bravissimo, Bob. Ma... Ma sembra la voce di un minion, ma ti prego. Eh, beh, certo. Eh, ma va? E io che pensavo di lasciarlo andare, Bob. Salvataggio completato. Missione completata e guadagnato 250 punti esperienza. Vediamo. Ovviamente ne abbiamo dati di più a Siberius. Danno da aeropattino. Danno inflitto, danno da inflig... Oh, ok. Quindi dobbiamo switchare ogni tanto i personaggi e vedere... Ok, ok, ok. Aumentiamo il pugno per adesso che è il danno base, quindi tanto vale aumentarlo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Autore dei sorrisi